Black Widow è finalmente uscito al cinema dopo un anno di rimandi, causa lo sappiamo tutti, finalmente è uscito e tutta questa attesa forse ci ha anche fatto perdere l'hype nel frattempo, ma è valso la pena aspettare così tanto? Scopriamolo! Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo! Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, intanto prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno una sorella in Russia e di commentare qui sotto con quello che viene parso del film e di questo video. Parto con alcune cosette no spoiler che possono fruire tutti, anche chi non ha ancora visto la pellicola. Comincio col dire che il film è davvero godibile, è un film che francamente non dico pensavo fosse anche peggio, però pensavo fosse più semplice e invece lo hanno strutturato davvero bene, mi ha ridato quel sapore di Captain America and the Winter Soldier o, se vogliamo usare un termine più recente, mi ha dato quel sapore di Falcon and the Winter Soldier. Quindi questo clima un po' da film action molto, diciamo anche politico, comunque di spionaggio, di azione intesa in quel senso, quindi non azione fantascientifica, non azione in altri mondi come possono essere stati i film più grossi degli Avengers o i Guardiani della Galassia. Un film con i piedi ben piantati a terra, con un'impronta Marvel, ma che proprio per questo, proprio perché esistono nel Marvel Cinematic Universe film come questo, ci fa rendere il tutto un po' più verosimile, proprio perché si trattano temi comunque, tra virgolette, più plausibili che non mostri spaziali alieni. Si parla di spionaggio, si parla di paesi in lotta, si parla di cospirazioni governative, di eminenze grigie dietro a tutto, che creano dei soldati, insomma, sono temi che possono ricordare facilmente il clima di Captain America, ed è una cosa fantastica, dato che Captain America the Winter Soldier è a mani basse il film più bello del Marvel Cinematic Universe a livello registico. Me lo ricordavo un po' più leggero, Captain America the Winter Soldier, quando l'ho rivisto una seconda volta mi sono accorto che è un po' tanto lunghetto da digerire, ma comunque strutturalmente il migliore, e il fatto che Black Widow ricordi questo film è un valore aggiunto. Un'altra cosa che vi posso dire, no spoiler, che poi andremo a spiegare meglio nella parte spoiler, è che mi è piaciuto che la trama comunque non vada a cozzare con nient'altro che abbiamo visto, ovvero si inserisce perfettamente in una fase dell'MCU che ormai è chiusa, quindi si sapeva che era un film, diciamo, prequel. Ciò nonostante è interessante, cioè perché molti film prequel dicono ok, ma la storia, il percorso narrativo di questo personaggio è già chiuso, che me frega di vedere questa parte che approfondisce sì degli aspetti, ma il capitolo per me è già chiuso. In realtà si parla di alcune cose che sono state sempre accennate, se ne parla finalmente, e soprattutto si esplora un lato umano del personaggio che non era mai stato esplorato per mancanza di tempo, perché Widowanera non ha mai avuto un film in solitaria, e soprattutto tutto quello che dicono, come dicevo prima, non va a cozzare con altri film. Ma quello che abbiamo visto nel trailer che ci aveva dato dei sospetti di retcon o di errori, in realtà è stato tutto spiegato molto bene. Non mancano i colpi di scena rispetto a quello che molti magari si aspettavano di vedere, ma non sono colpi di scena da saltare sulla poltrona. Diciamo che mentre state guardando il primo atto del film, quindi il primo terzo del film, già potreste intuire alcune cose che fanno capire dove si andrà a parare, però devo dire che non mancano comunque questo tipo di colpi di scena, colpi di scena alla Marvel, nulla di che, ma molto interessanti. Ma ora basta con questo detto-non-detto, vedo-non-vedo, passiamo al nudo integrale, non quello di Scarlett Johansson, e neanche il mio, state tranquilli, mi riferisco sul fatto che metterò a nudo la trama. Quindi spoiler tra 3, 2, 1. Wow! Ragazzi, mi è piaciuto un sacco. Premesso questo, io ci credevo in questo film, non sono uno di quelli che dicono vabbè, che me frega di Black Widow, un personaggio che ormai è morto, eccetera. Però, ecco, ci credevo anch'io, ma ammetto che l'hype mi era passato, perché comunque dal momento che dovevo uscire nel 2020, se non sbaglio, poi c'è stata la pandemia, l'hanno rimandato più e più volte, non si sapeva se usciva in streaming o usciva al cinema, adesso è uscito al cinema, ma ci siamo già cuccati, WandaVision, ci siamo già cuccati Falcon e Winter Soldier, ci stiamo cuccando Loki, e quindi, diciamo, tutta l'attenzione Marvel era spostata su questi titoli. Ciò nonostante, il film è davvero bello, è stato fatto bene. Si sapeva che era ambientato dopo gli eventi di Captain America 2, io pensavo che fosse proprio dopo Captain America and the Winter Soldier, e invece, fondamentalmente ha più senso così, è ambientato dopo Captain America Civil War. Perché? Perché dopo Captain America and the Winter Soldier, vediamo una Natasha Romanoff, che fondamentalmente manda a cagare il governo, è appena stato scoperto, appena stato smantellato lo shield, perché sotto c'era l'Hydra, quindi in un certo senso avremmo avuto una Natasha Romanoff fuori dallo shield, ma non aveva molto senso, anche perché poi l'avremmo vista in Avengers Age of Ultron, quindi ci sarebbe stato Hulk, ci sarebbero stati tanti personaggi che potevano cavare di impaccio la nostra vedova nera. Invece, ambientandolo dopo Captain America Civil War, è una situazione perfetta per vedere questa protagonista in solitaria. non può chiedere aiuto a nessuno, perché non è, diciamo, registrata, non è più un Avengers, ha tradito gli Avengers registrati alla fine di Captain America e Civil War, quindi è cacciata dal governo, è cacciata dal generale Thunderbolt Ross, e sta cercando di nascondersi. Hulk è sparito con Queen Jetta alla fine di Avengers Age of Ultron, anche Thor non è reperibile, si sa, perché poi lo vedremo, non c'è stato nemmeno in Civil War, quindi sappiamo che vedova nera è sola. Allo stesso tempo, finalmente, scopriamo anche il passato di vedova nera, scopriamo un po' i personaggi che abbiamo visto nel trailer, questo Red Guardian, la seconda vedova nera, Jelena, e il personaggio interpretato da Rachel Weisz, che si chiama Melina, che onestamente io non avevo capito che fosse la madre, tra virgolette, delle due vedove nere, di Elena e Natasha, perché francamente li porta molto bene gli anni, quell'attrice sembrava una sorella più grande, invece dovrebbe essere una madre adottiva. Copriamo un po' il retroscena di quello che abbiamo visto nel trailer con un primo flashback che ci fa vedere Natasha e la sorella che vivono in America, non in Russia, ma vivono in America, vivono in Ohio, e già lì ho iniziato a stringere i denti, ho detto oddio, vuoi vedere che l'hanno fatta nascere in America, non è russa, invece no, c'è tutta una spiegazione, si scopre che Red Guardian, oltre a essere il primo e unico super soldato russo, era anche mandato in missione segreta come spia all'estero e scopriamo che questa famiglia che abbiamo visto nel trailer altro non è che una montatura, che una copertura, quindi Red Guardian, che si chiama Alexei, non è il vero padre di Natasha e di Elena, assolutamente, è anche meno che un padre adottivo, nel senso era proprio una copertura, una copertura che c'è stata per tre anni in Ohio, si è comunque creato una sorta di rapporto familiare, ma non è il padre reale, tant'è che quando in Avengers Endgame il teschio rosso dirà Natasha figlia di Ivan e Natasha dirà conosce il nome di mio padre, io non l'ho mai conosciuto, non c'è nessun errore, perché il vero padre di Natasha Romanoff manco viene nominato in questo film da tanto che lei non ne sa nulla, viene nominata la madre di Natasha Romanoff, quindi quella adottiva e quella reale, ma non viene nemmeno nominato il padre, quindi si presume proprio che il padre se ne sia scappato ancora prima che lei nascessi, e in Endgame correttamente lei scoprirà il nome di suo padre. Quindi risolto anche il mistero di questa cosa che molti di voi pensavano fosse un errore che si era fatto nello scrivere Black Widow, assolutamente no, non è un errore, io avevo quasi azzeccato sul fatto che Alexei fosse un padre adottivo, in realtà è anche peggio, è un finto padre. Scopriamo già dalla scena iniziale spezza cuore con la colonna sonora di Smell-like Teen Spirit cover, ovviamente non quella originale dei Nirvana, che si trova, ve la metto qua sotto in descrizione tra i miei link Amazon, scopriamo che questa sorellina, Yelena, che aveva sei anni, ha vissuto gli ultimi tre anni in Ohio pensando che era proprio quella la sua famiglia, perché chiaramente era troppo piccola per ricordare la verità, mentre pare di capire che Natasha avesse già avuto una sorta di iniziazione nella stanza rossa, era già molto combattiva, riusciva già a disarmare un uomo adulto, il capo, diciamo, di Red Guardian, che poi sarà il Big Bad, il nemico finale di questo film, l'aveva già addocchiata come molto promettente per poter diventare una futura vedova nera. Vediamo che alla fine missione dell'Ohio, quindi, Yelena viene portata nella famosa stanza rossa e Natasha ci ritorna, quindi probabilmente era stata tolta dalla stanza rossa per questa missione per poi ritornarci. Infatti noi vediamo l'amore di Natasha verso la sorellina, che poi anche lì non è una vera sorella, a quanto capito non c'è del sangue tra di loro, sono solo come sorellastre. Comunque vediamo l'amore verso la sorellina nel cercare di non farla andare nella stanza rossa, per quello vuole minacciare anche i soldati, non vuole che Yelena vada dove lei è già stata. Questa stanza rossa è la famosa stanza dove, abbiamo visto nel flashback di Avengers Age of Ultron, tutte le spie del KGB chiamate Vedove Nere, perché appunto non c'è solo la vedova nera Natasha Romanov, ma ci sono le Vedove Nere, che sono tutte quelle che sono state addestrate nella stanza rossa, vengono appunto trasformate da ragazzine in macchine da guerra. La cosa che mi è piaciuta molto è che c'è un certo sentore di film femminista, ma non è spiattellato, non è spiattellato come in altri film, non è spiattellato come la famosa scena di Endgame, dove c'è la sfilza di tutte le supereroine femminili che aiutano Captain Marvel, che è talmente sgravata che non ha bisogno di nessun aiuto. Qua è una cosa molto sottile, ma si percepisce. Si percepisce perché il villain di questa pellicola non preleva ragazzini e basta, preleva specificatamente ragazzine dalla strada e le trasforma in agenti segrete. Perché ragazzine? Le trattano proprio come spazzatura che questo buonissimo uomo le toglie dalla strada e le alleva, gli dà una missione, peccato che gli fa un vero e proprio lavaggio del cervello. E c'è tutta una metafora, un gioco di potere tra l'uomo che comanda dietro la scrivania queste ragazzine e le ragazzine che invece sono in prima linea a combattere una guerra che nemmeno appartiene loro. Tant'è che quando si scopre che Taskmaster in realtà non è assolutamente il personaggio che c'è nei fumetti, ma è una sorta di automa, è una sorta di persona che viene controllata da questo nemico dietro la scrivania, ovviamente perde un po' il fascino del Taskmaster originale perché quello parla, chiacchiera e si vede che le skills che ha imparato sono frutto di qualcosa di cui lui si vanta, mentre questo Taskmaster in realtà è praticamente controllato da qualcuno, è quasi più macchina che umano. Ma mi è piaciuto molto, a parte questa cosa qui che non fosse padrone delle sue azioni, mi è piaciuto molto che fosse una donna anche questo Taskmaster, che a questo punto si potrebbe chiamare Taskmistress, non lo so. Fatto sta che mi è piaciuto. L'ho capito dal primo momento, cioè quando si vede il flashback con Natasha che fa esplodere la casa di questo tizio con la figlia dentro, ho capito subito quando mostravano che Taskmaster non aveva un volto, non aveva una personalità, non aveva un background, ho detto ok, sarà la figlia di questo pazzo maniaco che l'avrà fatta diventare una macchina da guerra più delle altre vedovenere, di sicuro, perché un folle di questo tipo che tratta le ragazzine prese dalla strada in questo modo, sicuramente non si farebbe scrupoli a trasformare la propria figlia in qualcosa di più delle vedovenere. E quindi, diciamo che un po' l'avevo intuito, sicuramente non avevo nessun dubbio sul fatto che fosse Clint Barton. No, ma fosse, fosse, se fossimo stati a Budapest, ma a Budapest è ambientato prima di Avengers 1, quindi è ambientato tecnicamente anche prima di Thor, in teoria, quindi assolutamente, si sapeva che era dopo, almeno dopo Captain America e The Winter Soldier hanno mostrato che è dopo Captain America Civil War, Clint Barton si sa ha patteggiato per stare con la propria famiglia, che senso aveva che andava a rincorrere Natasha in un costume che non era nemmeno quello né quello di Hawkeye né quello di Ronin, non avrebbe avuto assolutamente senso. So che a voi piaceva vedere questi Red e Toby amici e amici che si scontravano, ma non ha proprio senso. Taskmaster non è un personaggio che c'entra assolutamente niente con Occhio di Falco. Taskmaster, nei fumetti, è il villain, è la nemesi di Black Widow, ma comunque ha combattuto con altri supereroi, con Spider-Man. Se avete giocato a Marvel Avengers, lo avete visto all'inizio, scontrarsi con Vedova Nera proprio all'inizio del videogioco. Se avete giocato a Marvel Spider-Man in una side mission, avete visto che c'è Taskmaster che dall'ombra dà delle sfide all'uomo ragno, quindi è un nemico presente nell'MCU che ha la capacità di emulare, di imitare tutte le mosse dei suoi avversari e solo guardandole le impara, un po' come Majin Buu, diciamo. Ha questa memoria visiva, questa memoria iedetica fantastica e la usa per il combattimento. Per questo che è padrone di tutte le armi, delle spade, dell'arco, ma non è Occhio di Falco. Il fatto che il nemico d'azione di questo film, questo Taskmaster, fosse una ragazzina, una ragazza esattamente come Natasha, come tutte le altre Vedo Venere, secondo me è stato un valore aggiunto alla qualità della sceneggiatura, della trama. So che non c'entra con il personaggio originale dei fumetti, mi dispiace che non è attinente in modo preciso ai fumetti, però se devo guardare solo il lato della sceneggiatura, il lato cinematografico, questa cosa mi è piaciuta molto di più. Certo, sarebbe stato bello se avessero tenuto il personaggio originale, se ci poteva essere un seguito, se ci potevano essere dei futuri scontri tra Vedova Nera e Taskmaster, ma dal momento che sappiamo tutti che Vedova Nera morirà in Avengers Endgame, non avrebbe avuto senso tenere Taskmasters, un Taskmaster particolare. Lo hanno sprecato, diciamo, per questa pellicola, ma ha dato molto più senso alla pellicola stessa. Per quanto mi sarebbe piaciuto vedere sulla pellicola gli eventi di Budapest, per quanto mi sarebbe piaciuto vedere tutta la storia che ha fatto diventare amici Clint Barton, Occhio di Falco, e Vedova Nera e Natasha Romanoff, qua non ce li becchiamo, è una storia molto più recente, quella che ci becchiamo, ma comunque non mancano di citare finalmente gli eventi di Budapest. Vediamo che Occhio di Falco ha inseguito a Budapest Natasha Romanoff, vediamo delle frecce, dei segni di freccia sul muro, quindi Clint Barton ha cercato di uccidere Natasha Romanoff, che era condizionata mentalmente, diciamo, dalle Vedove Nere, ma in modo un po' alla Winter Soldier, quindi gli avevano fatto una sorta di condizionamento psicologico. È riuscita a pentirsi delle sue azioni da Vedova Nera, si è alleata con Occhio di Falco, e insieme hanno fatto saltare in aria tutta questa organizzazione, per poi nascondersi per dieci giorni a Budapest, di cui due giorni in quel controsoffitto nella metropolitana che abbiamo visto, dove abbiamo visto proprio che la relazione era palesemente platonica, dato che in quei due giorni si sono messi a fare il tris, le parole e i crociate sul muro, proprio per sancire la platonicità della loro amicizia, e quindi, pur non avendolo visto sullo schermo, comunque abbiamo scoperto cos'è successo a Budapest. La missione invece che vediamo in questo film è proprio una missione di, diciamo, terminare una vecchia missione che non era finita del tutto, perché questi nemici dei fumetti non muoiono mai, quindi nonostante ci sia stata un'esplosione il Big Bad non era morto, e abbiamo scoperto che ha trovato un modo anche migliore per condizionare le sue vedove nere, quindi non più con un condizionamento psicologico alla Winter Soldier, ma con un vero e proprio siero, con una fiala, che modifica a livello neurologico, neurale, le proprie azioni. Lo vediamo da Melina, che riesce a comandare con un tablet dei maiali, che Melina è un po' la scienziata di questa organizzazione, e hanno usato questo metodo chimico per controllare le vedove nere, che sono consapevoli, diciamo, di quello che fanno, ma non possono controllare le proprie azioni. Yelena, che è la sorella di Natasha, è una delle prime a liberarsi da questo condizionamento neurale grazie a un antidoto, e vuole usare questo antidoto per liberare tutte le altre vedove nere, quindi spedisce l'antidoto a Natasha, ed è così che finalmente si riuniscono le due vedove nere. Il personaggio di Yelena mi è piaciuto davvero tanto, si vede che è pazza come Natasha nell'azione, si vede che è più giovane, anche a livello proprio di quanto è scapestrata rispetto a Natasha Romanoff, e mi piace che potremmo vederla ancora in futuro, potremmo vederla magari in una serie tv. Io credo che la vedremo come villain della serie tv di Occhio di Falco, a giudicare anche dalla scena post-credit che abbiamo visto, dove viene reclutata da Val, il personaggio che abbiamo visto anche in Falcon and the Winter Soldier. Quindi inizialmente avevo supposto che ci potesse essere un film, una serie tv sui Thunderbolts, dove c'era questa seconda vedova nera, ma nel momento in cui questa stronzetta gli ha dato come target Clint Barton, di assassinare Clint Barton, con la scusa che ha ucciso sua sorella, ho supposto che la vedremo nella serie tv di Occhio di Falco, quindi ci sarà Occhio di Falco, ci sarà Kate Bishop, Occhio di Falco cercherà di istruire Kate Bishop e potrebbe esserci come villain questa Yelena, questa seconda vedova nera, che poi sicuramente a fine serie si redimerà e ci sarà un altro villain, di sicuro, però presumo che la vedremo lì. È molto figo vedere tutti questi passaggi di testimoni, ci sarà sicuramente questa seconda vedova nera, che probabilmente ci sarà nel prossimo film, quando faranno mai un prossimo film corale degli Avengers, ci sarà Kate Bishop che sarà la sostituta di Occhio di Falco, ci sarà Miss Marvel, secondo me stanno imbastendo bene il futuro del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio di Red Guardian, francamente pensavo fosse un pochino più d'azione, invece gli hanno lasciato la linea comica del film, fondamentalmente, l'ho visto proprio come un Drax di questa famiglia, quindi un duro totalmente folle, al di là del bene e del male, che però strappa semplicemente un sorriso, non è tanto necessario, diciamo, all'andamento della trama, se non per qualche cazzotto, però mi è piaciuto comunque, mi è piaciuto comunque il suo genuino e ingenuo amore verso le figlie, nonostante tutte le cagate che abbia fatto nella vita. Le picche finali che sicuramente avrete notato, il gilet pieno di tasche, il gilet verde pieno di tasche, che Natasha Romanoff indossa in Avengers Infinity War, scopriamo essere appunto di Yelena, Yelena lo ha regalato alla fine di questo film a Natasha, non perché Yelena è morta alla fine del film, come tanti supponevano e dicevano, ma probabilmente si tingerà di biondo, metterà il gilet per questo motivo. No, si è tinta di biondo, probabilmente anche per omaggiare la sorella, ma anche il fatto che all'inizio del film abbiamo visto che Natasha era solita tingersi i capelli, ci spinge a pensare che per lei non è una cosa così inusuale, anche perché essendo una spia è normale che cambi il suo volto, come abbiamo visto anche in questa pellicola che si scambia d'aspetto con la madre. Diciamo che vedere Melina, Yelena e Natasha in azione mi ha fatto vedere una sorta di Charlie's Angels serio come non lo hanno mai fatto al cinema e mi è piaciuto un sacco vedere questo tipo di organizzazione spionistica, questo tipo di famiglia e organizzazione spionistica allo stesso tempo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film, se siete rimasti piacevolmente sorpresi, siete rimasti entusiasti, se per caso vi è deluso, magari vi aspettavate altro, scrivetemelo qua sotto, che vediamo insieme cosa vi aspettavate da questo film o se tutte le vostre aspettative sono state, diciamo, soddisfatte. Fatemi sapere se anche voi come me speravate di vedere il trailer di Spider-Man No Way Home alla fine di questo film e siete rimasti delusi. Noi, come sempre, ci vediamo settimana prossima per l'ultimo episodio di Loki, probabilmente lunedì uscirà un video così a un passant o forse probabilmente sulla DC Comics, non ne sono sicuro perché sono in ferie quindi non so cosa uscirà, quindi attivate la campanella delle notifiche, potrebbe uscire un video lunedì e poi mercoledì o giovedì si parla di nuovo di Loki. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'imbuto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'imbuto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Grazie a tutti.